ciao bentornate bentornati oggi vediamo un problema che può essere risolto impostando un sistema di equazioni lineari e ciò nonostante problemi di questo tipo vengono spesso proposti in prima media leggiamoli insieme andrea bruno e carlo hanno complessivamente 178 euro bruno a 12 euro più di andrea e carlo a 25 euro più di bruno quanti soldi a ciascuno dei tre e come dicevo che a dimestichezza con la matematica tenderà a scrivere un sistema di equazioni indicherà con x y e z il denaro di andrea bruno e carlo e scriverà ad esempio una prima equazione x più y più z uguale 178 euro e così via in questo video però vedremo un metodo grafico molto più semplice che non richiede l'utilizzo di incognite non richiede conoscenze di algebra ma sfrutta semplicemente le quattro operazioni e quindi può anche essere compreso e risolto da uno studente molto giovane il cosiddetto metodo dei segmenti si rappresenta infatti ciascuna grandezza con un segmento di lunghezza opportuna allora il denaro di andrea lo rappresentiamo con questo segmento il denaro di bruno che ha 12 euro più di andrea sarà un segmento di 12 unità più lungo mentre il segmento che indica il denaro di carlo sarà 25 unità più lungo di quello di bruno che a sua volta è 12 unità più lungo di quello di andrea ora la chiave per risolvere il problema è calcolare la lunghezza complessiva di queste tre parti evidenziate in rosso e per farlo è sufficiente considerare il totale che ricordiamo essere di 178 euro e togliere queste parti in più quindi meno 12 di nuovo meno 12 e meno 25 e si ottengono 129 euro ora considerando che questi tre segmenti sono tutti lunghi uguali si divide per tre e si ottiene la lunghezza di uno solo ma questo è proprio il denaro di andrea quindi 129 diviso 3 fa 43 euro a questo punto il problema è praticamente risolto per trovare i soldi di bruno basta fare 43 più 12 e si ottiene 55 e per trovare quelli di carlo si aggiungono ancora 25 euro e si ottengono 80 euro e quindi le tre persone hanno 43 55 e 80 euro per completezza mostro anche la soluzione col sistema lineare chiamiamo x il denaro di andrea y quello di bruno e z quello di carlo e si scrive il sistema che vedete che risolvendolo porta alle stesse soluzioni io trovo però che il metodo dei segmenti è molto carino ed elegante e soprattutto al vantaggio di poter essere compreso anche da chi non ha dimestichezza con le lettere mischiate ai numeri se il video ti è piaciuto puoi visitare il mio canale di matematica e fisica che ti può essere molto utile soprattutto se sei uno studente delle superiori ma anche per i più grandi per riscoprire un po di matematica e fisica inoltre se apri un qualunque video e mettiamo in pausa così non ci disturba e in descrizione puoi trovare i link a tutte le mie playlist alcune sono molto complete altre sono ancora solo abbozzate ma mi impegnerò a produrre sempre nuovi video ciao e grazie